ebay fa schifo questi sono i commenti che mi arrivano spesso commenti che posso ritenere giusti e posso ritenere completamente sbagliati mi pongo sempre la domanda perché una persona ritiene che ebay possa far schifo mi metto anche dall'altra parte prova a immaginare quale possono essere le motivazioni per il quale una persona mi dice ebay fa schifo i motivi possono essere tanti variegati viviamo in un paese libero dove ognuno può fare le proprie scelte e nessuno ci ha costretto di vendere su ebay avremmo fatto la nostra scelta e forse ci saremo trovati bene o male ma perché quali sono le tue motivazioni per il quale ritieni che ebay fa schifo scrivimelo qua nei commenti sicuramente ci saranno persone che ti risponderanno anche io ti risponderò apriamo una discussione insieme e cerchiamo di capire perché quali sono i motivi e che cosa è successo anche a te per il quale ritieni che per te ebay fa schifo